Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video di ufficialità e novità di calciomercato per quanto riguarda ovviamente il Napoli Prima di iniziare vi invito come sempre iscrivetevi al canale, condividete il video e vi lasciate se vi piace se ovviamente il video vi dovesse piacere Inoltre cliccate sulla campanellina per ricevere sempre le notifiche e in descrizione troverete tutti i miei social soprattutto, io vi invito soprattutto a seguirmi su Instagram dove vi aggiorno sulle poche notizie di mercato, sui video, sulle live Cioè e poi il link di Twitch dove vado sempre in live o quantomeno posso seguire il programma settimanale che pubblico ogni lunedì mattina e lo metto nella home di Instagram Stasera parleremo di tattica, ok? Cercheremo di analizzare cosa non è andato, cosa è andato ma neanche Per quanto riguarda ovviamente Verona-Napoli e quindi vi aspettiamo stasera alle nove e mezza, ok? Quindi post-cena tranquilli discutiamo, analizziamo e ci indossichiamo perché rivedere sempre gli errori non fa bene al fegato Dunque è ufficiale, o quantomeno, ieri ha fatto le visdemetiche, ieri sera ha raggiunto l'hotel che c'erano anche Conte e Manna quindi oggi dovrebbe essere il giorno dell'ufficialità Io pubblico questo video, poi se salta alla Brescianini veramente, ma io usiamo proprio una società di serie C Davide Neires è un nuovo giocatore del Napoli, 30 milioni a Benfica e al calciatore, un contratto di 4 anni a 3 milioni all'anno È un esterno, prevalentemente agisce sulla sinistra ma può giocare anche a destra È un mancino, è un mancino, funambolo, frizzantino, segna, qualche gol lo ha fatto L'anno scorso, nonostante una stagione non proprio all'altezza delle aspettative, ha fatto 5 gol e 10 assist in totale tra campionato portoghese e le varie coppe europee La cosa che mi preoccupa di Neires è che sono due cose La prima è che in 90 minuti diciamo non è continuo, certe volte scompare, poi all'improvviso compare e fa quella giocata Diciamo che non è attento al 100%, non è sempre in partita durante i 90 minuti Un'altra cosa sono infortuni Diciamo che l'anno scorso, tengo davanti la schermata di Transfer Market, ovvero la cronaca degli infortuni L'anno scorso ho avuto due infortuni gravi Un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per 50 giorni facendogli saltare due partite E poi soprattutto un infortunio al menisco Sempre secondo Transfer Market che lo ha tenuto fuori per 78 giorni facendogli perdere 15 partite Quindi diciamo che non è di buon auspicio Ovviamente Neires è più forte di Politano Ma è proprio, è inutile negarlo, ok? Non è un top player, altrimenti non starebbe a Napoli per quanto mi riguarda Ma proprio senza se e senza ma Però è un giocatore forte È un giocatore che se dovesse tornare come i tempi dell'Ajax Perché i tempi dell'Ajax io lo volevo Può essere veramente un'arma importante Può ovviamente investire su Neires ai due possibili strade O hai preso un possibile flop o un potenziale top Ok? Fatto sta che se Neires ritorna come appunto ai tempi dell'Ajax Ruba il posto Politano dopo 10 minuti di partita probabilmente Quindi è inutile, è inutile negare ciò Pertanto, benvenuto a Davide Neires Cosa è servito l'acquisto di Davide Neires però? Per avere più imprevedibilità Se da una parte hai Kvarraskelia Che con Spinazzola può duellare bene E quindi Kvarraskelia è molto abile Nel dribbling, nell'uno contro uno Salta l'uomo eccetera eccetera Dall'altra parte tiene Politano Che non salta l'uomo, manca a pagarlo Pertanto, pic, dal cilindro Ecco Davide Neires che è un Kvarraskelia Molto più esperto Molto più esperto perché ha 27 anni Quindi viene a Napoli con una certa maturità calcistica E quindi hai un altro funambolo Hai un altro driblomane su quell'altra fascia Quindi sei più imprevedibile Questa è secondo me l'importanza di Davide Neires Però la domanda soggia spontanea Era urgente prenderlo? Per me no Io so contento che è arrivato Perché ruba il posto a Politano E che Politano non lo posso più avare Concordo Può essere pure che Neires sappia Che ruba il posto a Politano Giuffredi Pio, telefono Auree Camma fa Camma fa Camma fa Quindi può essere Perché Giuffredi E prima categoria Lo sappiamo tutti Però La domanda soggia spontanea Era urgente Neires? No No Perché su quella fascia Come sottopunta Ne abbiamo già due Politano e Ngong Ok Quindi a livello numerico Visto che Neires Lo hai speso 30 milioni Non era più logico Spendere 30 milioni Per McTominay Che servirebbe Come il pane A centrocampo Visto che siamo contati Questa è la domanda Che voglio Porre A voi Ma siamo al 20 di agosto No In Napoli Mancano 11 giorni Alla fine del calci mercato 11 giorni E Napoli Ha una lista Infinita Di esuberi Da piazzare In primis La grana La grana Usiman Che sappiamo tutti Com'è Sappiamo tutti La grana Di quanto Stia diventando Fastidiosa No Sia la presenza Se il fatto che Usiman Piglia 10 milioni All'anno E quindi Va in barca Vai Fest Va così Va con la Ok Poi ci sta La grana Che dirà La grana Mario Rui Che sembra esserci Un'offerta Dal Brasile La grana Foloruscio Che ha litigato Con Conte E quindi Conte Dopo il battibecco Lo ha messo Lo ha messo Fuori rosa Perché Foloruscio Voleva essere Il titolare E poi Conte Nello stesso tempo Gli ha detto Gli avrà detto Ti devi suddare il posto E quindi Automaticamente Foloruscio Non si è impegnato Negli allenamenti Poi ci sta la grana Gaetano Che tiene ancora Giuffredi Che ha detto Oh Cagliari O Napoli Quindi se scegli Napoli Gaetano Sta fuori rosa Probabilmente Perché dove cazzo Lo metti Gaetano Forse solo a fargli A fargli Ad aiutare Starace nel caffè Probabilmente Poi Gaetano È un altro Che è un genio Fa le storie Su Instagram Come un bambino Viziato Abbiamo Troppi Esuberi Troppi Esuberi Che purtroppo Questo è Come la tessera Del domino Cade uno Cade tutto Nel senso che Conte Ha voluto Valutare Tutti E qua Conte Ha sbagliato Io torno a ripetere Questo argomento Torno Cioè Conte Ha sbagliato Nel valutare I giocatori Quando si vedevano Già dall'esterno Che Non erano Proprio Adatti Ok E magari Gli esuberi Li potevi piazzare Già A luglio Io non escludo Che il Napoli Abbia ricevuto Offerte Degli esuberi Però Conte Ha detto No li voglio studiare Io non lo escludo Non lo escludo A differenza A differenza di Osimene Che Si sta comportando Come un bimbo Minchia E io devo leggere No ma Quella è riconoscenza Eh ma Quella è stato Capocondoniere Del Napoli Lo scudetto Ma che cazzo Me lo fotto Se lì si sta comportando Come una creatura Che Appare Una creatura Che Ha bisogno Di coccole Ha bisogno Di un bimberon Allora La cosa Che il Napoli Dovrebbe fare Io non escludo Questo è un mio Messaggio Complottistico No Io non escludo Che Osimene Lo stia facendo Apposta Per non fare Incastare i soldi A Napoli Perché All'anno scorso Dicevano Ho ricevuto Telefonate Dalla rabbia La rabbia Si è ripresentata E Osimene Niente Il PSG Si è litigato Con Napoli Per quanto riguarda I 200 milioni Con Kvara E Osimene E quindi Il PSG Se lo adanaz Rimane il Chelsea Osimene Ha sempre voluto Andare al Chelsea Però il Chelsea Offre meno Di ingaggio Rispetto al PSG La formula Osimene Se lo vuole andare In maniera definitiva Non in prestito Con diritto obbligo Ma sempre Definitiva E quindi Mo Stiamo a così fermi Perché la cessione Di Osimene Finalizzerebbe Altri ingressi Come McTominay Lutizzo Lukaku Gilmour Non è possibile Che noi siamo Prigionieri Di un giocatore Questa frase La dico sempre La dico E ci sono Difosi Che Rimarco Eh ma Quelle riconoscenze Dove sta la riconoscenza La riconoscenza Da ficconculo Proprio in maniera Papale papale Ok Il Napoli Se si vuole comportare Grande Perché a differenza Ma io a differenza Dell'Atlanti Ieri è finita La prima giornata Quanto rosico A vedere Tiago Motta Alla Juve Tiago Motta Che poteva venire A Napoli Poteva venire A Napoli Come post Spalletti Dell'Aurentis Dice No nessun allenatore Voleva prendersi L'incarico Del Napoli Il vostro scudetto Era troppo pesante Così eccola Ma la verità È che Tiago Motta Aveva aperto Le porte del Napoli Lui giustamente Voleva sapere Il direttore sportivo Chi fosse stato Dell'Aurentis Ha detto Ha detto No avrebbe detto Ha detto Ci sono io Non ti basto E quindi da là La spucchiosità Dell'Aurentis Ha detto Ah sì Ciao Chiagnatello è tu Quanto cazzo rosico Tiago Motta È rosico Nel vedere L'Atalanta Società Superiore A Napoli L'Atalanta In 72 ore Si è rotto Scamacca Quindi Si è rotto Scamacca Attenzione Pigliamo subito Un attaccante In 72 ore Hanno pigliato Retequi S'hanno fottuto Brescianini Brescianini In 3-4 giorni Ha signato Retequi Ha signato Programmazione Cosa inesistente Dalla SSC Napoli Società Poi stamattina Devo leggere No De Laurenti Ha chiamato Conte Lo accontenterà Nel mercato Azzo Tu motosheet Tu motosheet A 11 giorni Dalla fine Tu motosheet Che a Conte Gli servono gli acquisti Non ti basta Vedere la rosa Scarsa Che hai La rosa Che a centrocampo Tieni con Isacoglia A carino Non ti basta Non ti basta Non ti basta Che hai un Simeone Un chedira È un Simeone È un raspadori Come punte Quando Conte Lo sai benissimo È che non ci voglio credere Non ci voglio credere Che Conte Nel Negli incontri Con De Laurentiis Non ti abbia detto Voglio questo Questo E questo Voglio un attaccante fisico Voglio Lukaku Non ci credo Non ci credo Eppure Eppure Siamo al giorno Ottocento di giugno E ancora Non è possibile Avere la punta Mo se cedate Che vuole dare rinforze A Conte In Napoli Se vuole comportarsi Da grande E non vuole essere Prigioniera di Osiman Che ripeto Per me lo sta facendo apposta Deve acquistare Punto Deve acquistare Lukaku subito E dire Osiman Tu rimani Ti metto fuori rosa Vaffanculo L'abbiamo preso Lukaku Poi voglio vedere A 26 anni Dopo 6 mesi Di tribuna Dove cazzo vai E chi cazzo ti vuole Perché in allenamento Nei ritiri Non si è allenato Tieni i vizi Va Nei discoteca Vango per yacht Sti cazzi Ti perdi Ti perdi Cazzi tui Perdo soldi Ma tu perdi la carriera Così è Non è possibile Ripeto sta frase Essere prigionieri Di un giocatore E siamo al 20 di agosto E tra Quanto? Tra Tra 5 giorni C'è in Bologna Eh Forse Neres gioca Da subentrato Aspetta Che Cacama Aspetta 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 E non Asperà Che la situazione Osimene si sblocchi Che Foloruncio Se ne vada Se ne vada La Lazio È pronta A offrire 12 milioni A Napoli Ma il Napoli Ne vuole 15 Ma sentite 3 milioni No Ma mandatelo A fanculo Liberate un posto Nella lista Porca troia Ma Invece di trattare 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 A finire la Lazio Bella e buona Perché può capitare Si rompe il cazzo E dice Ah si Tu vuoi sempre trattare Vuoi tirare la corda Vaffanculo E foloruncio Ti rimane Un po' stomaco Semplice Ma io Purtroppo Il pesce Puzza dalla testa E solo adesso Ce ne stiamo rendendo conto Forse Io Me ne sono reso conto Da anni Figuratevi Ma io Forza Napoli sempre Benvenuto ancora a Neres E speriamo che Il mercato Tra Manna Conte De Laurentiis Inizi a muoversi Un po' Perché bisogna fare Tre acquisti Tre acquisti Ufficiali Tre acquisti Titolari A meno Titolari Fammi sapere la vostra Un commentino Mi raccomando Sempre con rispetto Forza Napoli sempre Ciao Ma io Che bella vita è Voglio viverla insieme a te Ma ci con Napoli Non conosco Sacco di Che bella vita è Voglio viverla insieme a te Gio A meno A meno Ma